Ragazzi, questo è quello che ho trovato quando mi sono alzata, il televisore a testa in giù. Dio, cucina, i spartelli aperti, tutto a terra. Non so come ci sia arrivato. Di là c'è una casa degli orrori, la cosa più assurda è l'armadio bocciato sul letto. Lì sotto c'è il letto, io stavo dormendo.